Musica Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione Flash del nostro TG Subito la Cronaca. Era latitante da sette anni e stato scoperto e arrestato dopo una lite in città. Tunisino è evaso dai domiciliari il 13 settembre del 2014. Lo aveva fatto manomettendo il dispositivo di controllo del braccialetto elettronico. Proprio per questo motivo la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con la custodia cautelare in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo è stato scoperto dopo una telefonata giunta al 112 dove veniva segnalato un acceso di verbio all'interno di una abitazione in via Montale ad Arezzo in cui uno dei protagonisti era proprio il Tunisino. Gli operatori della squadra volante, subito giunti sul posto insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo visibilmente nervoso, hanno effettuato approfonditi i controlli e dopo aver accertato la sua identità lo hanno arrestato. L'uomo è stato poi rinchiuso nel carcere di Arezzo. Il cerchio dunque si è chiuso dopo sette anni, durante i quali il Tunisino aveva fatto perdere le sue tracce. Salta l'udienza in Cassazione prevista per il 22 luglio sul caso di Martina Rossi, la ragazza che dieci anni fa morì precipitando dal balcone della camera dell'albergo di Palma di Mallorca, dove si trovavano Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due aretini condannati per tentata violenza di gruppo a tre anni. L'udienza va alla sessione straordinaria estiva e sarà calendarizzata probabilmente a fine agosto. Hanno percepito i soldi senza averne diritto. La finanza di Arezzo scopre numerosi furbetti del lockdown. Scoperte dalla Guardia di Finanza di Arezzo numerose irregolarità nell'ambito dei finanziamenti a fondo perduto per le imprese dannecciate dal lockdown nel corso soprattutto della prima fase dell'emergenza sanitaria lo scorso anno. L'opera di monitoraggio è stata capillare. I vari ristori dati dal governo sono finiti sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gelle che hanno accertato numerose irregolarità tra coloro che hanno usufruito delle erogazioni pubbliche. In particolare la legge era chiara visto che non potevano usufruire di questi benefici che aveva conti aperti con la giustizia in particolare per i reati di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e truffa aggravata. Allo stesso modo erano interessate le aziende colpite da provvedimenti interdittivi per contribuità alla criminalità organizzata dalle indagini svolte grazie all'incrocio dei dati è emerso che sei imprenditori non avevano i titoli per avere i ristori visto che le imprese erano in liquidazione in epoca precedente alla pandemia mentre 18 imprese erano già ferme quando hanno ricevuto i rimborsi. In tutto nelle maglie dei controlli sono finite 26 attività, molte concentrate in Casentino. Tutti i responsabili sono stati segnalati alla Procura per l'indebita percezione. In campi di attività riguardano ristorazione settore immobiliare. I diretti interessati adesso rischiano anche una sanzione fino a 40.000 euro. È una giornata speciale per Arezzo quella del 14 luglio. Infatti ricorre il 77esimo anniversario della strage di San Polo, uno dei momenti più efferati che hanno caratterizzato il passaggio del fronte nel corso dell'ultimo conflitto mondiale. Il 14 luglio del 44, reparti della 94esima fanteria della Wehrmacht misero a ferro e fuoco la frazione alle porte di Arezzo, uccidendo 65 persone, tra cui molte donne, anziani e bambini. La giornata avrà due momenti, la deposizione di una corona di alloro a Villa Gigliosi e quindi la cerimonia di San Polo che si concluderà con la celebrazione della Messa, ufficiata da Don Natale Gabrielli. Il capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli, alla festa delle Acli, ha ribadito la grande opportunità che si presenta con il Recovery Fund per la nostra regione. Siamo con Vincenzo Ceccarelli alla festa provinciale delle Acli, dove si parla della ricaduta del Recovery Fund nella nostra regione. Allora, il piano ha ancora tutto da definire? Intanto sappiamo che siamo di fronte ad una svolta per quanto riguarda le politiche europee. Siamo di fronte ad una grande disponibilità di risorse, investimenti pubblici saranno una parte importante della ripartenza dopo la pandemia. Intanto noi pensiamo a stare attenti, a contrastare il virus, poi però dobbiamo pensare anche a curare l'economia. La ripartenza sarà importante anche per quanto riguarda la Toscana. Le risorse ci saranno, ma dovremo essere bravi a catturarle. Quindi sarà importante avere grandi capacità progettuali, per questo la regione sta predisponendo una sorta di cabina di regia, rivolta anche al coordinamento di quelle che saranno le capacità progettuali che esprimono i comuni e dovremo anche essere capaci di fare una proposta coerente con l'indicazione che ci viene dall'Europa, quindi la digitalizzazione, l'economia circolare, le questioni ambientali, infrastrutture per lo sviluppo sostenibile. Dovremmo essere capaci perché queste risorse non saranno ripartite un tanto per uno, ma saranno date a chi avrà la capacità di essere propositivo. La Toscana da questo punto di vista farà sicuramente la sua parte. Parliamo adesso di sanità. Cala l'adegenza media nel CRT, così come vi è una riduzione delle infezioni. La clinica di riabilitazione punta le nuove tecnologie alla ricerca e serve tutta l'area vasta. Facciamo un bilancio delle attività della clinica di riabilitazione Terra Nuova proprio nella sua sede con il suo direttore generale Antonio Boncompagni nel primo semestre. Allora, direttore, non è stato certamente un semestre semplice. Com'è andata? Allora, è andata complessivamente in maniera positiva perché siamo riusciti a dare la stessa ordine di grandezza delle risposte degli anni precedenti. In particolare, nei primi sei mesi sono stati circa 200 i pazienti che sono stati dimessi, che hanno completato il loro percorso riabilitativo all'insegna di tre principali indicatori che abbiamo valutato e abbiamo ora riscontrato. La prima è un callo generalizzato dell'adegenza media. Questo è molto importante perché sta a significare che i pazienti sono stati introdotti nei nostri reparti in maniera precoce, in maniera tempestiva e nello stesso tempo poi sono riusciti a uscire in maniera, diciamo, corretta e protetta insieme a collaborazione in particolare con l'ACOT e con l'ASD. Il secondo dato è quello del calo delle infezioni perché fortunatamente, anche grazie forse a tanti accorgimenti che sono entrati nell'epoca Covid, di cui abbiamo ovviamente tempestivamente utilizzato, e sono diminuite effettivamente quelle che sono le infezioni resistenti agli antibiotici, che sono quelle più pericolose. Il terzo e ultimo dato è anche un calo della mortalità e anche questo è un dato importante anche se correlato agli altri due indici, che possiamo dire che questo semestre ha effettivamente dato un contributo positivo al tema delle rehabilitazioni. Confidiamo che la rehabilitazione da Scenerentola, come è un po' in tutta Italia, diventi un punto di riferimento certo e importante per tutti i percorsi degli acuti, in particolare per quelli sia chirurgici ma anche non chirurgici che hanno necessità poi conseguentemente di rientrare con più abilità nel territorio e a propria abitazione. Parliamo di sport adesso. È stata una delle rivelazioni dell'ultimo campionato europeo di calcio. Parliamo del 19enne calciatore spagnolo Pedri. Fu un aretino che si accorse delle sue qualità ma nel nostro paese non gli credettero. Storie croniche vanno a braccetto e non sempre si incontrano. In questi giorni è salito alla ribalta dopo i recenti campionati europei di calcio il giovane spagnolo Pedri, un centrocampista di 19 anni che si è affermato nel Barcellona e nella formazione nazionale iberica. E pensare che Pedri era stato scoperto da un aretino alle isole Canarie. Pedri è di Tenerife. L'imprenditore Paolo Calabrò, grande appassionato di calcio con delle attività appunto nelle isole spagnole, aveva capito che questo ragazzo aveva delle grandi qualità. Lo portò in Italia dove svolse un provino per una società di serie A ma venne incredibilmente bocciato. La storia di Pedri è abbastanza tipica perché Pedri è un ragazzino che anche oggi non ha ancora 18 anni, non ha ancora 19 anni, lui compie 19 anni mi pare a novembre e è un ragazzo che pesa 60 kg tuttora, peserà 62 forse da quando gioca nel Barcellona. Questo ragazzino venne scartato anche dal Tenerife perché era un ingherlino, era un ragazzo che aveva una visione di gioco incredibile. Tu l'avevi visto giocare perché giocava insieme a tuo figlio? Giocava insieme a mio figlio, giocava nella stessa società, mio figlio è un anno più piccolo. Quando io feci vedere questo ragazzo mi fu fatto notare che in Italia avrebbe avuto delle difficoltà enormi perché in Italia si predilige la stazza più che la qualità, però Pedri è un ragazzo che è immarcabile perché gioca di prima. Secondo me non si dovrebbero selezionare i ragazzi per vincere il campionato dell'anno successivo ma si dovrebbero selezionare i ragazzi per formare un giocatore per le prime squadre. Non snaturarlo, non creare un rambo ma valorizzare le sue qualità. Questa sera sulla nostra emittente potrete assistere subito dopo il TG a 9.10. Oggi un'intervista esclusiva di Luigi Alberti a Maurizio Bragagni, fra l'altro consigliere del governo britannico. Seguirà a chilometro lanciato, oggi incentrato sui campionati italiani femminili esordienti primo anno e allievi, svoltisi tra Chiusi e Chianciano Terme. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG. Grazie quindi della cortesa attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.